Siamo qui alla inaugurazione dell'azienda agraria annessa all'Istituto Costanzo. Oggi è una giornata importante e abbiamo la presenza di autorità del territorio, della col diretti che ci onora della sua presenza. Abbiamo la presenza soprattutto dei ragazzi e dei loro insegnanti che saranno quelli che sfrutteranno queste opportunità. Adesso mi accingo al taglio e il signor Piccoli farà anche il battesimo dello spumante. Forza? Uno, due, tre. Benvenuti! Un po' di silenzio e di concentrazione perché Don Roberto deve concentrarsi, è una cosa importante. Allora chiediamo al Signore di dare la benedizione a questi mezzi, a quanti li porteranno avanti, a chi vi salirà sopra e vi lavorerà perché con questa attività di studio e questa attività di lavoro possa aiutare tutti i nostri ragazzi a crescere integralmente come persone, come lavoratori, come studenti, come lavoratrici e come studenti. Allora chiediamo al Signore di donarci la sua benedizione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male. Amen. O Dio il cui figlio ha riscattato e condiviso la condizione dell'uomo che lavora associandolo all'opera della salvezza. Confortaci con la tua benedizione e concedi la tua grazia a quanti che attraverso questi mezzi di lavoro cresceranno nelle virtù e nello studio. Per Cristo nostro Signore. Amen. E li benedica Dio onnipotente che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nella breve intervista l'amministrazione comunale che ho l'onore di rappresentare è molto lieta di partecipare a questo evento che serve sicuramente per rilanciare questa scuola all'interno della nostra area. È una scuola in cui crediamo molto, ci siamo molto impegnati insieme all'amministrazione provinciale per farla rinascere utilizzando i fondi del PNRR che come voi sapete è stata finanziata alla demolizione e ricostruzione integrale di questo istituto per circa oltre 4 milioni di euro. I lavori stanno andando avanti, c'è un bellissimo progetto redatto da tecnici dell'Università della Calabria, cosa per la quale siamo particolarmente orgogliosi perché è la nostra terra che è capace di fare anche queste cose. È una bellissima scuola, una scuola molto green che sono sicuro diventerà molto attrattiva per i nostri giovani. È la vocazione che ha anche quest'area, quella dell'agricoltura, un'agricoltura moderna, un'agricoltura qualificata che necessita di una formazione adeguata ed appropriata. È il primo istituto superiore che è nato nel nostro territorio. All'epoca ha avuto un grande ruolo in questa cosa un nostro compaesano illustre, il preside Pietro Fabiano che non smetteremo mai di ricordare perché è stato veramente saputo guardare avanti. Tanti giovani sono usciti da questa scuola, alcuni sono rimasti nell'ambito dell'agricoltura e di questo settore economico importante per il nostro territorio e per la Calabria tutta, altri sono partiti da qui, hanno fatto altro nella vita ma hanno avuto le loro basi culturali in questo istituto. Quindi è importante questo. Altri sono tornati anche come docenti, quindi abbiamo alcuni esempi. Anche noi nella nostra amministrazione abbiamo dei giovani professionisti che sono formati in questa scuola. Quindi è un messaggio di speranza, è veramente importante quello che si fa. Io colgo sempre l'occasione per rimarcare e per ringraziare la dottoressa Mendola per l'impegno che mette per questa scuola, quasi come dire, l'ha adottata, lo fa con grande passione e oggi vediamo i risultati del suo impegno ma che ha avuto modo di dimostrare anche in tante altre occasioni. Quindi sono sicuro che con l'impegno di tutti e anche dei giovani che devono avere l'orgoglio di formarsi in questa scuola e questo serve anche per promuoverla. Sono sicuro che ci sarà un futuro. Insieme ai docenti c'è una classe docente autoctona del nostro territorio, anche giovani, quindi credo che ci siano tutti i presupposti perché questo istituto cresca, cresca nel tempo. Quindi speriamo che con l'impegno e un'attività proporzionale che tutti insieme, in sinergia, possiamo fare di assicurare al nostro territorio perché è un patrimonio collettivo, non è soltanto dei giovani che la frequentano. Grazie ancora, dottoressa Mendola. Importante in questo progetto, in questo nuovo inizio, è la collaborazione che abbiamo appena iniziato ad avere con la Coldiretti e con la cooperativa del Reventino. Giusto? Allora, loro sono i nostri consulenti e ci daranno una mano nell'impostazione di tutto quello che faremo, anche per una maggiore visibilità, per le opportunità di uscire fuori dal territorio perché abbiamo bisogno anche di questo. Io vorrei lasciare la parola al dottor Meringolo, alla dottoressa. Allora, come ho già detto, la collaborazione con la scuola, come Coldiretti, ci ha riempito di gioia anche perché il progetto che è appena iniziato è un progetto importante, importante per il territorio, come ha già detto anche il sindaco, è importante per questi ragazzi perché ovviamente la scuola deve stare vicino ai ragazzi, deve aiutarli a crescere e la collaborazione con Coldiretti non può far altro che avvicinare questi ragazzi a quello che sarà il domani il mondo del lavoro perché ovviamente fino ad ora la scuola non sempre riesce a stare vicino e a inserire i ragazzi nel mondo del lavoro. Mi auguro che ovviamente il progetto vada avanti, noi saremo sempre vicini con i nostri esperti, con i nostri consulenti. Niente, bocca al lupo, buona fortuna! Buongiorno a tutti, sono felicissimo di avere in parte la gestione di questa scuola che sottolineo non verrà fatta solo e esclusivamente dalla cooperativa ma la cooperativa è quella che supporterà nella gestione e nelle vendite poi tutta la parte del programma, la parte agricola annuale verrà fatta con i professori in primis e poi con i ragazzi perché quello che vogliamo è proprio attirare i giovani, far capire anche la parte di multifunzionalità dell'azienda agricola e quindi il contadino di oggi non è il contadino di 50 anni fa e quindi vogliamo dare anche nuovi stimoli a questi ragazzi e avvicinarli di più al mondo agrario. Questa è una scuola che può diventare un fiore all'occhiello del nostro territorio e quindi lavoreremo insieme per lo sviluppo più che altro per i ragazzi. Grazie. Sono inizi però bisogna anche tornare indietro un pochino nel tempo e magari fare un saluto all'ex dirigente della scuola, va bene? Prego Preside Caligiuri. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto i complimenti alla collega che veramente con grande fatica e grande dedizione si sta dedicando molto al settore dell'agricoltura. In modo particolare quello che sta facendo è quello di ammodernare il parco macchine che è abbastanza adattato. Quando l'ho trovato io era quasi dismesso, l'abbiamo solo rimesso in funzione, però non abbiamo mai avuto possibilità. Quindi aver colto questa opportunità e soprattutto utilizzando per la progettazione il personale all'interno relativamente alle opportunità che ci sono sul territorio è una grandissima cosa. Anch'io concordo con chi poco fa è intervenuto sulla valenza che questo può avere per il territorio. L'ha sempre avuto e ancora più adesso perché veramente ci sono spesso ragazzi e ragazze che appartengono a famiglie che hanno imprese agricole. Quindi sono qui veramente per arricchirsi e per rimanere sul territorio e operare in questo settore. Allora in ultimo e non in ultimo dobbiamo citare i fondi da dove vengono perché è giusto così. Allora il parco macchine è stato acquistato con una spesa di quasi 250 mila euro ragazze. grazie ai fondi europei. Il Pone Du Green che si è svolto e si è chiuso, si spera si sia chiuso perché dobbiamo ancora essere controllati ma dovrebbe essere tutto a posto, con il Pone Du Green. Però in corso e in essere c'è anche il PNRR sull'Agridigital Innovation che riguarderà questa azienda ma anche l'azienda di Savutano dove sarà impiantata una vera e propria una serra aula didattica. Qui recentemente è stata consegnata la serra idroponica didattica che poi magari avremo modo di farvi vedere ed è stata posizionata settimana scorsa. Giusto? Professore Greco vuole dire qualcosa sull'idroponica? Professore Mazza? Prego. Buongiorno a tutti. Grazie per la giornata dedicata alla scuola agraria, in particolare visti i tempi all'agricoltura direi io. Un settore strategico per l'Italia intera ma soprattutto per i nostri territori. Come diceva anche il sindaco poco fa, questa scuola è il fulcro dei giovani che sono legati al mondo rurale, sia per chi ha la famiglia ma soprattutto con le strategie che noi mettiamo in campo sulla mentalità da imprenditore agricoli di cui già il nostro preside, l'ex preside Caligiuri era fautore e tempo addietro, se i giovani non acquisiscono una mentalità imprenditoriale votata al rurale ovviamente il Made in Italy non avrà grande strada. Noi ci siamo, siamo presenti e siamo aperti all'innovazione soprattutto per quanto riguarda il 4.0. Lì dietro abbiamo già inserito una campannina meteorologica digitale con la collaborazione anche di personale che è uscito da questa scuola e con delle aziende che ci seguono a distanza e adesso con tutto il parco macchine nuovo e come diceva la preside poc'anzi con la serra idroponica che non è altro che un sistema nuovo di coltivazione di piante senza l'ausilio del suolo ma sfruttando l'acqua e i sali minerali che si disciolgono in essa. Parlarne e non vedendola è un po' come dire parlare del nulla ma poi sicuramente andremo di là e vedremo la serra idroponica o meglio il modulo di serra idroponica posizionato per capire diciamo le propensioni votate al futuro di questa nuova innovazione ma noi non ci fermeremo a questo con la cooperazione ed è finalmente tra aziende, la nostra azienda e la parte esterna come diceva prima la dottoressa ci mancava questo know-how di esperienza cioè proprio manca il legame tra la struttura portante del mondo agricolo e noi professori quindi questo finalmente faccio i complimenti alla preside potrebbe essere il nodo su cui far volano per intraprendere propensioni nuove soprattutto per questi giovani. Ripeto se si accende la televisione oggi l'agricoltura pare un settore in crisi ma vi assicuro che non è così perché noi siamo il settore portante del rurale e quindi non potrà mai venire meno il cibo nelle nostre tavole se poi l'azienda viene inserita in un contesto del genere e riusciamo a produrlo noi nel miglior modo possibile i nostri ragazzi avranno un futuro e mi permetto di dire non devono partire ma devono restare qui nelle nostre terre perché ci servono, noi abbiamo bisogno dei giovani. Grazie. Grazie professore. In ultimo e non in ultimo perché in realtà i protagonisti sono proprio loro sono i nostri, io dico miei perché la scuola la sento mia, scusatemi a volte sono un po' così gli addetti alle aziende, gli assistenti tecnici che faranno il grosso del lavoro e che già hanno iniziato, hanno fatto delle ripuliture del terreno circostante della scuola che faranno il loro lavoro con l'ausilio, anzi con la consulenza della cooperativa. Vi ringrazio per l'impegno che ci metterete, per quello che avete fatto adesso e per tutto quello che farete sicuramente di più in futuro. Grazie. 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 Grazie.